Siamo? Una sconfitta di Raffaele. Mi vendi questa, la sconfitta. Eccolo, eccolo. Eccolo il suo. In quadro, in quadro. Vediamo adesso. Ciao Manu. Ciao. Ma... Eccolo. Ecco. Siamo carichissimi, eh? Super carichi. Si vede, no? Quindi... Quale è? Oh, ma è il quale... Eh... Si, se, se, se! S rosso... È un'altra storia. Sリa, è un'altra storia 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 Buonasera da Sarocco di Capodimonte, finalissima al Champions League Futsal Centurio Napoli, siamo qui con i due capitani di Atletico 92 e San Pietro, Paolo Medunno e Danilo Contiello, ragazzi una battuta ciascuno a volo, Paolo la finale è tanto voluta, cosa ti aspetti e cosa ci voleva battere questa squadra? L'impegno massimo, concentrazione e gioco di squadra. Vuoi dire qualcosa ai tuoi compagni? Di crederci fino alla fine. Danilo, stessa domanda anche a te, loro vi hanno sempre battuto nei precedenti incontri in questo torneo, quindi... Quindi già sappiamo che è un avversario molto tosto, nello stesso momento ci dobbiamo mettere solo tanta volta, ragazzi vi faccio in bocca al lupo, complimenti anche per la finale, l'accesso al finale, ci vediamo noi. Buonasera da Sarocco di Capodimonte, finalissima al Champions League Futsal Centurio Napoli, San Pietro contro Atletico 92, chiamiamo uno alla volta tutti i protagonisti di questo match, San Pietro con Danilo Conchiello, il capitano, Guido, Tartaglia, Andrea, Avallone, Fabio, Maievano, Fabiano, Palumbo, il duo d'attacco, Raffaele, Giardino e Luca Palumbo. Atletico 92 risponde con Vittorio Gaudino, Lopetto, Gogao, Paolo Medugno, il capitano, Ludovico Giardino, Giovanni Caga, l'attaccante bomber numero 10, Giuseppe Lofredo. Grazie a tutti, grazie a tutti. Prima di tutto complimenti per la finale, se non fischio, buttate pure il sangue, i tuoi denti, se non fischio, giocate sempre, qualsiasi cosa dare tutte le mie massime spiegazioni a entrambe le squadre, ma se non fischio, giocate. Balla a campo, portiere. Bocca al lupo di nuovo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.